Il Pyrénè Adesso sono nei Pyrénè ma voglio andare via da questa regione costruiscono una centrale nucleare Ma... ti piace vivere in montagna? Qui sono pastore, berger Non pensare a le forestie e pensare ai nostri problemi Euro il paese ha un andamento diverso ci sono delle necessità locali Che andamento è andamento il paese è sviluppato un mese all'anno pareva venire i ladri queste sono le necessità locali Ma loro l'avessero più alla nuova? O già che sono i raggi che trovano e hanno fatto una ruota con i miei tempi È un'opportunità da non perdere Uno dei principali valori qui è l'ospitalità Per evitare grane sarebbe meglio fare più attenzione ai confini Io vedo solo case vuote e pati in disodio Se mi ne vedo una vincolino il mio volto il chiotto si metterà la ciappu la pova rosta e ti lo mangio Mi credete diversi? Ma siete tutti uguali? Se lo senti continui a difendere il forestiere contro la gente di Sina visto che lo fai il verro vino Venite voi da lezioni alle mie capre così sapranno dove mangiare Chissà quanti soldi ha dato per averti fatto cambiare idea? La cultura ad hoc a un certo punto l'hanno quasi ammazzata Sai perché? Perché la gente è tollerante A me la parola tolleranza non piace Se tu devi tollerare qualcuno non c'è senso di uguaglianza La cultura ad hoc è un'ottima che sono la perla e che è un'ottima grazie a tutti all'interno il suo �ito è un'ottima Grazie a tutti.